Protestano i detenuti del carcere di Enna per la mancanza di acqua calda. La notte scorsa le persone recluse nella struttura di via Palermo hanno messo in atto la più classica delle forme di protesta, e cioè la cosiddetta battuta, colpendo le sbarre delle celle con le suppellettili e altri oggetti per richiamare l'attenzione. La protesta, scatenatasi probabilmente per la mancanza di acqua calda nelle docce, è andata avanti per circa due ore, cessando intorno a mezzanotte. Il frastuono ha richiamato l'attenzione di parecchie persone. Sul posto sono arrivati poliziotti e carabinieri, che hanno creato un cordone intorno alla struttura carceraria per impedire il transito a ridosso delle mura.